Se io immagino il volo charter che raccoglierà molti esponenti della politica italiana accompagnandoli in Grecia, vedo che una compagnia piuttosto eterogenea che quel volo potrà ospitare, che quel charter potrà ospitare, una compagnia eterogenea venata da spinte populiste, quelle che sono state richiamate anche nel titolo dell'incontro di oggi,